Come gabbiani sull'acqua, lampedusa tra due mondi. Questo il titolo del libro di Angelo Campanella, che è stato presentato questa mattina presso l'Aula Magna del Liceo Scientifico di Sciacca. Oltre all'autore sono intervenuti la dirigente scolastica Giuseppina Di Liberto, il docente Geromaggio e il giornalista Accurso Sabella, che si è soffermato sull'evoluzione della semantica legata alla tematica dell'immigrazione. Il mio intervento riguarderà soprattutto le parole che riguardano l'immigrazione, cioè il racconto di un tema che è un tema allo stesso tempo enorme, un tema planetario, ma che ricade nella vita quotidiana di ciascuno di noi. Quindi il mio intervento oggi avrà questa finalità, provare a descrivere come viene narrata l'immigrazione, come l'utilizzo di alcune parole che riguardano questo tema, questo argomento, possano influenzare la percezione che si ha dell'argomento stesso. Un argomento che in realtà però è molto complesso e che tocca diversi ambiti, diversi aspetti, sia politici sia umanitari. Nel corso degli ultimi anni la semantica sull'immigrazione è molto cambiata? Sì, è cambiata. Ci sono alcuni aspetti positivi e alcuni aspetti negativi. Un report recente, uno studio, ha evidenziato come ad esempio dal 2018 ha ripreso a salire l'utilizzo di alcuni termini spregiativi nei confronti dei migranti, mentre fortunatamente altri sono spariti man mano. È anche vero però che il tema dell'immigrazione è un tema che ha una forte connotazione politica e quindi è molto facile da utilizzare proprio in questa ottica. Quindi è sempre materia di scontro, è sempre materia di polemica. A volte la narrazione, la descrizione che si ha dei fatti è per certi versi opposta. Raccontare lo stesso fatto in maniera opposta vuol dire che il fatto ha una portata ideologica e politica molto forte. È un argomento di grande rilevanza, fortemente preparato dagli studenti del liceo delle scienze umane e insieme ai loro docenti. Il tema delle migrazioni che fortemente ha determinato non solo lo studio ma anche una riflessione approfondita che oggi trova compimento con due ospiti importanti che sono lo scrittore Angelo Campanella e il giornalista Curcio Sabella. Si discuterà insieme di questo tema, non solo il tema della migrazione ma anche quello della narrazione che incide moltissimo nel nostro modo di percepire appunto questo tema e soprattutto nel pensiero che noi dobbiamo sviluppare nella direzione dell'integrazione e nella direzione di un'umanità che sia più umana. Questo libro deriva dall'esperienza che ho vissuto a Lampedusa. Io sono stato, ho lavorato per due anni a Lampedusa come insegnante e in quel frangente è accaduto il famoso episodio del 3 ottobre che ora è diventato purtroppo anche proverbiale per via degli eventi che ogni anno si susseguono purtroppo ancora. Siccome avevo stabilito un rapporto di simbiosi con l'isola e nell'isola i gabbiani e il loro comportamento sono una delle costanti. Quindi i gabbiani si allontanano dalla costa anche per mesi, addirittura fino a tre mesi è stato provato scientificamente per trovare il cibo e poi però ritornano sulla terraferma. E quindi questi gabbiani mi sono sembrati un po' come i migranti che si allontanano dalla terra di origine, dalle loro radici ma hanno sempre il desiderio di tornare. Lampedusa, volente o nolente, sta facendo tanto per l'immigrazione? Si trova in una posizione di confine e come tutti i luoghi di confine non scelgono di fare qualche cosa, devono. Il problema nasce proprio dalla presenza dei confini e non è un problema attuale, è un problema che c'è da quando ci sono le civiltà nella storia. Noi sappiamo che tutte le grandi guerre nella storia sono avvenute per questioni di confine. Quindi ciò che a noi interessa qui, siamo a scuola, è quello di far vedere come la questione, oltre che i risvolti politici, può avere dei risvolti umani e che quindi c'è l'altro di fronte a noi, che è un uomo come noi. Grazie. 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 Grazie.